Dagli allievi del Conservatorio Scontrino al raffinato violino di Mauro Carpi, dalle giovanissime ragazze della rock band Active Sound alla rotilante esibizione della fisa armonica di Pietro Adragna, solo per citarne alcuni. Insomma, un cartellone variegato e tutto volto alla messa in luce dei talenti musicali del nostro comprensorio, ed il tutto in un luogo che ormai da anni sembrava dimenticato, fuori dalle mappe dell'intrattenimento. Sono quattro serate all'insegna della buona musica, conciliare il luogo magico Villa Pepoli con la musica, ma soprattutto è un progetto che l'amministrazione ha scommesso su questo, riuscire a far conoscere i nostri artisti nei nostri luoghi. Una quattro giorni che guarda la buona musica, guarda il luogo magico, ripeto, quale è Villa Pepoli, abbiamo voluto valorizzare gli artisti giovanissimi del conservatorio nella prima parte di ogni serata, e nelle quattro serate poi abbiamo avuto da Pietro Adragna a Mauro Carpi, a questo eccezionale talento Luca Filastro, oppure i ragazzi Jo Silva e Margherita Abbi dalla prima serata. Riteniamo che sia un progetto da ripetere, da valorizzare, ovviamente con un impegno maggiore per i prossimi anni. Questo è Pepoli Summer, prima edizione, speriamo ne faremo altre.